Mi hanno chiesto se sia possibile prestare un ebook acquistato da Copo. In breve, no. Come possiamo leggere sulla pagina di assistenza di Copo, al momento non è possibile prestare o condividere i tuoi libri Copo con un'altra persona. L'ebook è un oggetto immateriale, che potrebbe tranquillamente essere copiato ed inviato illegittimamente a qualcun altro. Per impedire che questo avvenga, sia Amazon che Copo rendono gli ebook leggibili solo attraverso delle app dedicate o dei dispositivi dedicati. Il Kindle di Amazon è il Rakuten Copo di Copo. Amazon consente di prestare un ebook nel modo, a mio parere, più logico possibile. Se presti un ebook a qualcun altro, questo sparisce dalla tua libreria e rimane nella libreria della persona alla quale tu hai prestato. Gli ebook sono contenuti all'interno di file con formato specifico. Se tu copi quel file e lo passi ad un tuo micro, stai di fatto commettendo un reato. Quello di pirateria informatica.